Ho iniziato a mettere su questa pagina che tramite un algoritmo riesce a pubblicare in automatico dei contenuti estratti dai post della pagina di Salvini. In realtà il senso non è compiuto, c'è una risposta a un contenuto no sense. Questo è uno dei messaggi a cui sono più affezionato perché mi ha fatto ridere tantissimo. Meno l'80% di sbarchi è le felpe. Negli ultimi anni, seguendo un pochino i flussi di comunicazione, commenti, l'engagement che produceva la pagina ufficiale del ministro Salvini, mi sono reso conto che c'erano delle cose che non mi tornavano, cioè dei numeri sproporzionati o dei commenti magari molto spesso fuori contesto. E da qui poi è derivato questo esperimento. Un paio di mesi fa ho iniziato a mettere su questa pagina che tramite un algoritmo riesce a pubblicare in automatico dei contenuti estratti dai post della pagina di Salvini. In realtà il senso non è compiuto, è l'algoritmo deriva da una formula di probabilità, un completo no sense. Questo è uno dei messaggi a cui sono più affezionato perché mi ha fatto ridere tantissimo. Meno l'80% di sbarchi è le felpe. Questo pure è carino. Secondo voi è normale avere italiani di serie A e serie B? Affinché gli stadi e i nostri figli crescono con latte, riso, olio, arance e pomodori italiani. Questo è stato condiviso 220 volte. In diretta dal ministero dell'interno ha già fatto abbastanza danni al paese. Facendoli invadere per anni è appena rinnovato la testa della Liga. La cosa sorprendente è proprio questa. In due mesi la pagina ha raggiunto più di 10.000 like. Ma non sono i like alla pagina che magari possono interessare, ma proprio quello che produce ogni posto che viene generato. Questo è l'andamento della pagina, di com'è cresciuta. Quindi è stata una crescita veramente esponenziale rispetto ai primi giorni. Un incredibile numero di cuoricini, di share, di commenti. Per chi come me magari è in questo mondo, si rende conto che l'engagement rate, cioè uno dei parametri che utilizziamo per misurare quanto un posto sia effettivamente produttivo, supera abbondantemente il 30%, che è un valore incredibile. I commenti sono del tipo siamo con te, continua così. C'è una risposta a un contenuto no senso. E addirittura è successo in alcuni post, qualcuno si lamentasse della non chiarezza del contenuto e le persone lo andavano ad attaccare per proteggere quello che poi è l'icona Salvini, il capitano. Salvini ha capito come comunicare e quando comunicare agli italiani, o la maggior parte degli italiani, visto che tiene dei numeri spropositati su Facebook e non solo. L'algoritmo, simulando i post di Salvini, utilizza lo stesso linguaggio. Quindi a prescindere dal senso, loro mettono like, interagiscono. Per chi è del settore e sa quanti sacrifici fanno i professionisti e cercano di creare dei contenuti validi, vedere che un contenuto che non ha alcun senso, ma solo perché c'è magari una faccia di Salvini, produce così tanto engagement, fa capire quanto sia basso il livello degli utilizzatori del social network e anche poi dei messaggi veicolanti. Quindi magari in una prima battuta si fa una risata. Poi dopo si inizia a avere una preoccupazione legata al fatto che comunque sono persone che come me votano. Grazie. 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 Grazie.